A voi tutti ben ritrovati su Meteo Giuliaci, un saluto come sempre da Giuseppe De Vittis. Giornate tranquille sì, ma giornate all'insegna vero dell'anticiclone, ma anche in compagnia della nebbia, e la nebbia aumenterà nei prossimi giorni, ma aumenterà purtroppo anche l'inquinamento, quindi il risvolto negativo del tempo tranquillo, anche se qualche nuvola ci sarà nella giornata di mercoledì, dove? Lungo il versante tirrenico, poi anche nelle zone un po' più interne, tra il Lazio, zone interne del Lazio, verso l'Umbria, zone interne della Toscana e un po' su tutto il Nord Italia, un mix tra nuvole basse e nebbia. Ben soleggiato, comunque con tanto sole invece, sull'arco alpino. Qualche goccia di pioggia possibile su zone centrali della Liguria, che poi tenderanno a spingersi anche su zone meridionali, di queste piovigini, ma nulla di significativo, sulla Piemonte e sulla Lombardia. Per il resto davvero nulla da segnalare, poche nuvole tra Sardegna e Sicilia, prevalentemente soleggiato sulle regioni meridionali. Il vento, debole un po' dappertutto, rinforzi sul canale di Sicilia. Quindi questo è lo scenario previsto per la giornata di mercoledì, con temperature in generale lieve rialzo, soprattutto nelle zone dove il sole si imporrà in maniera decisa. Io mi fermo qui, ci riaggiorniamo come sempre nei prossimi appuntamenti meteo.